600 metri ragazze velocissima davanti a tutte Viola Lovono da Cenovale con lei che si presenta con il migliore accredito 1.48.48 per Viola portacolica da Cenovale a diseguirla Bianca Pattaro per la coinvoluzione e poi Laura Tolomio per la libertà Scorsè e questo è il terzetto cerca di riagguantare Viola Lovono Bianca Pattaro per la coin quando mancano 300 metri all'arrivo Viola su Pattaro e dietro Tolomio per la libertà Scorsè aumenta il vantaggio Viola Lovono forte di un personale di 1.48.48 mentre Bianca si presenta con 1.57.37 e Laura con 2.04 questi gli accrediti delle prime 3 quando mancano 150 metri all'arrivo per Viola Lovono da Cenovale Bianca Pattaro subito dietro e Laura Tolomio al terzo posto arriva in questo momento sul rettilineo Viola Lovono da Cenovale a conto di applausi del pubblico ultimi 100 metri per Viola occhio anche al chilometro 1.48.48 il tempo di Viola che non ce la fa più attenzione a quello che si sta dietro con Bianca Pattaro Viola Lovono a vincere i 600 metri con il tempo ufficioso di 1 50 e qualcosina agli altri guarda anche Bianca Pattaro Oli arriva vai Alì vai Alì Sìììì